Il primo maggio, festa dei lavoratori, oggi si parte per 48x48x48. Oggi siamo ancora in Nevada, a circa 100km dalla Svegansk. Oggi faccio i 350 km. Piove di rotto, un paolo sotto l'acqua. 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 Piove di rotto, un paolo sotto. Piove di rotto, un paolo sotto. Piove di rotto, un paolo sotto. Grazie alle vostre donazioni, grazie al vostro supporto, grazie ai miei sponsor, grazie al mio mitico team. Piove di rotto, grazie a tutti. 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 Piove di rotto, grazie a tutti.